Questa è la mia idea di cosa si intende per privatizzazione, la mia idea di cosa si intende per privatizzazione è ridurre la presenza dello Stato dove la presenza dello Stato non è necessaria e riaffermare la presenza dello Stato dove invece la presenza dello Stato è necessaria. E questo chiaramente riguarda sicuramente il tema della riduzione delle quote di partecipazione statale che non riduce controllo pubblico e questo potrebbe ad esempio essere il caso di Poste così come io penso che ci sia la possibilità di far entrare i privati in quote minoritarie di società che oggi sono interamente sotto controllo pubblico e questo è il caso di Ferrovie. Ma sulla tempistica soprattutto sulla vicenda di Ferrovie lei sa che questo richiede una serie di passaggi che non stiamo a spiegare ma insomma che sono abbastanza lunghi e quindi la tempistica non dipende ovviamente solamente da me. Penso intanto che abbiamo dato un bel segnale con Monte dei Paschi di Siena perché noi per anni insomma abbiamo parlato di Monte dei Paschi di Siena come lo Stato italiano che metteva i soldi in Monte dei Paschi di Siena e bene o male con la nostra iniziativa alcune di queste risorse sono rientrate. Lo considero diciamo un bel segnale ma ripeto a partire dal nostro programma il diciamo l'idea con la quale ci muoviamo è questa cioè dove la presenza dello Stato non è necessaria si può indietreggiare dove la presenza dello Stato è necessaria lo Stato deve riaffermare la sua presenza e deve controllare quello che è strategico ma questo non vuol dire non aprirsi anche al mercato. Grazie.